L'isola d'Elbe è conosciuta come luogo in cui poter vivere le proprie villeggiature, un luogo turistico dunque. In realtà forse non tutti sanno che questo è anche un luogo dello spirito, un luogo in cui potersi raccogliere e perché no, dedicarsi proprio alla cura dell'anima. Vedete quello scoglio? Uno scoglio nero, uno scoglio sul quale però spicca la statua della Madonnina, una Madonna alla quale sono devoti tanti pescatori, tanti marinai che passano proprio da questa parte. Fabio Maria, protettrice degli uomini del mare. Sì, appunto questa Madonnina l'ha messa qui a proteggere tutti i figli caduti in mare e in occasione della festa di Santa Chiara che è la patrona di Marciana Marina, l'11 agosto viene organizzata una processione in mare dove le barche dei pescatori partono con appunto Santa Chiara illuminata sopra, arrivano qui, fanno il giro diciamo di questo scoglio, danno omaggio alla Madonnina e poi rientrano in porto. Beh, deve essere molto affascinante. Bello, tutte le luminarie, le barche tutte in raga che suonano, poi affanno i fuochi d'artificio, insomma è una bella festa.